Cambia niente, con sua Roma cambia niente, bisogna dividerla l'Italia, l'Italia è bella ma bisogna dividerla, ognuno per conto proprio. Grazie, grazie. Il signore che è di indipendenza veneta ha il grande sogno di vedere un Veneto libero, indipendente, lo abbiamo anche noi abbracciato per tanto tempo e dopo vent'anni di tentativi in un modo o nell'altro si è capito che non è fattibile. Anche l'autonomia, il referendum che propone la Lega di Zaia in realtà è un referendum che dice poco nulla e di 5 quesiti ne è rimasto ammesso solo uno, la Corte Costituzionale li ha sfalciati perché appunto abbiamo un dettato costituzionale che non consente se non di raggiungere ulteriori forme, condizioni particolari, questa è la dicitura del requisito referendario, di competenze in più in base al 116 della Costituzione. che vuol dire che può la Regione Veneto chiedere, consultando i propri cittadini veneti, se vogliono delle competenze in più su alcune materie, non è certamente il raggiungimento dell'autonomia, non è vero che il giorno dopo il referendum il Veneto sarà autonomo, non cambierà nulla.